FUTURA 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 vi ci hai mannato a tutti e due vi ci hai mannato e che un pizzi nel mezzo va fu spadato! Come pensate? Questo è il nostro uomo, Franco Bardieri. Direi quella di evitare una possibile falla controlla la famiglia del paese, i gambesi. Ma non fai chi ci sta combinando? Ha scatenato una guerra. Ha scatenato una. Chi lo sai, c'è la geofologia, va! E comunque, comissario, a gennaio, non avevi questa volta. Cadere con l'albamento significa neve. Non c'è la pittina, no? La pittina è tutta mia, mamma. Su questa successione è. Mamma, sei che cosa ci faccia, ah? C'è una bella! Staci dietro, tu! La giornata, capito? C'è una bella stessa, va! E ora, era un momento buono. Con solo ne prendiamo quei rogani stretta. Ma puro di ciò. Anzi, buono. Ma puro di ciò. Ma puro di ciò. Ma puro di ciò. Ma puro di ciò. Liberi cerchanti anche nessun senso libertà. Anzi, la regie è stata fatta